Sono l'architetto del patrimonio culturale. La libertà di opinione, di informazione e di manifestazione sono dei diritti fondamentali dell'uomo e sono indispensabili per ogni paese civile. Quindi esprimo solidarietà a tutto il popolo bielorusso che queste settimane sta lottando per la sua democrazia. Forza Bielorussia, Givi e Belarus! Forza Bielorussia